Salve, io sono Carmen, io Danilo, io Davide, Vira, Simona. Siamo gli studenti partecipanti al progetto naturalmente a scuole delle infane per l'inverno di Mesagna e vorremmo presentarvi il nostro progetto Eco-Fly S-Rail. La nostra impresa opera all'interno del rione aereo e si occupa di realizzare servizi di formazione e sensibilizzare quindi ogni passeggero nell'ambito della raccolta differenziata per ridurre l'impatto dell'inquinamento ambientale. Svilupperemo la nostra ideologia in acqua di contenitori per la raccolta differenziata che verranno poi installati sul retro dello schienale di ogni sedile, secondo il progetto più raffigurato, il quale è allegato al nostro business design. Vi sono due possibili soluzioni, una è di realizzare dei contenitori in PVC da posizionare l'inverno di ogni sedile nella solda schelastica oppure di realizzare tre anelli ai quali verranno applicate le bustine al fine di egepolare il loro scodamento. Inoltre sensibilizzeremo i passaggeri con la proiezione di un video durante il progetto sulla formazione del hotel ambientale, utilizzando gli appositi display collocati su tre toglioni a poggio a testa o sui monitor già installati all'interno di un aereo. Puntiamo su risolvere un problema grave che si sta presentando e che coinvolge l'interesse di ogni individuo e al contempo di proporre una nuova idea mai realizzata. Se non avete ancora fatto buona visione del nostro business plan e contiamo sul vostro sostegno. Grazie. Grazie. Grazie.